Allora, molto bene, rango S, rango A, B, C, D, Z, morente non conosco, Zeb89. Cane e lupo, non ho mai visto, barba scura su Twitch, sinceramente non so cosa faccia, non conosco, Ciccio neanche, sì ma perché non li conosco, barba scura c'è, sì su YouTube un conto, ma su Twitch non so cosa faccia, quindi fotta i sega. Ciccio, fratello di coso, di Marco Merino, sì Dario Moccia, Fragola Qt, lui strema principalmente League of Legends, no aspetta c'è il Cerbero prima, il Cerbero, il Cerbero direi, B, vicino a Zeb, perché sì, bravi di qua di là, però la chat mi sembra che non sarà Cagino di striscio, Chris Hallway, deluxe, Fieric, già lui ha Fragola, lo mettiamo qua perché lo conosco ma non bu, sinceramente, lui, me, Gabbone, Giampi, tecnomista neanche troppo simpatico, di iBob, è in gamba, mettiamo sulla A, il gatto sul tubo, ti sa di morente, dici, il gatto sul tubo, preferisco quando fa video, quindi su Twitch, B, il maestro, C, ovvero gli schianto, il Masseo, sebbene l'ho visto qualcosa, ma una sua live non l'ho mai vista, ma sinceramente penso sia molto valido, ai noob, non lo so, scusa, ai pants, ma che è, non faccio il quinto, ma sei forte, Ivan Grieco, Ivan Grieco, conosco, cioè, di nome, ma non ho mai visto, urlato, Ben, Justice, lo conosco, Kekobomba, Fortnite, Kodomoyuki, Ben, Kroatomist, non ho mai visto una sola live, no, sarà sicuramente brava, ma non so, Zeta, Kroatomist è anche brava, lo aiuto, mettiamo su C, Kireni, se non conosco, Lazarin, c'è anche lui, minchia è vero, sì, ma non mi interessa, Lucy Lien, no, grazie, non mi piace, Luke, non lo vedo mai in live, vedo sempre gli altri, quindi io direi una bella C, Kroatomist mi ha bannato dalla chat perché ho scritto eterosessuale, C, Kroatomist, non lo vedo mai in live, non lo vedo sempre gli altri, Marco, eh, io lui non riesco a farmi un piacere, D, il Marzone, non lo so, Matteac S per me sta qua Mollu non conosco Nezac neanche Panetti Si su Youtube si Panetti non l'hai visto Paolo Cannone Direi B Peppo 3393 Con la sua live infinita Che dura da non so quanto C Power direi B Reckings non conosco Rovazzi Ma non c'è mai Rovazzi Si so che su Twitch ho visto un minuto Ma non so dare un giudizio Rovazzi su Twitch cosa c'entra Rovazzi Rovazzi Serio Rovazzi Non conosco Perché non C'è Stormi So di nome Stermi Stermi Stormi Badrum Budrum Terenas è in gamba Terenas è in gamba Terenas è in gamba C'è poco da fare Lui Non lo sopporto No grazie Velox Non lo conosco Violet No grazie Xuder No Blur Poi quando fece quel video La Ah su Twitch E poi è lui E' andato su Twitch Anche lui Yoshi93 Non lo conosco Yotobi Si Lo metterei Su A Perché anche come streamer E' in gamba Zano Ehm Fa un pro player Io il pro playerismo Non lo guardo molto Switch Stiamo su B Omiatol Io Non lo so Non lo so Sarà uno dei big di Twitch Ma Boh Non so che tipo di intrattenimento porta Non mi sono mai visto una sua live Per poterlo Giudicare Tutti dicono Ah Migliore Mi ha togli di qua Mi ha togli di là Sì sì Perché Lazzarini Sì sì Ma Switch Boh Direi B Anche lui Sdrumox Luis Luis su Twitch Luis su Twitch No Non saprei Non posso dare un giudizio Sto qua Non lo conosco Atrix Sì Sulla B Cane secco Cane secco Non è quel canale Ehm Ma non è lui Non è quello degli Steam Dogs Boh Vabbè Non lo conosco Ancgram No Rubino Boh Su Twitch Non Non saprei Dread Neanche Sabacu Anzi No Cosa fare Digius Ven gamba Ven gamba Però Su B Dai B non è male Dai Come S Dai S Tyler Non Conosco Arcade Boys B Marcus Krohn Me l'ave 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 Marcus Ccusa Lo lasciamo qua Povero Marcus Povero Marcus Italian Dog Non Conosco Lei è molto brava Che paura Il RAS Il RAS Ci osta Con due specche Buonasera Un shout out Anzi Lo faccio io La guerra più totale Oh C'è il RAS Tech Bella lì Bella lì RAS Come va Sto qui Justice Chi è? Ma chi è? Ciao RAS Come va? Ma chi è sta gente? Ah no Ciò che mi sono Detta Non conosco Lui Lui per me È anche lui Goi Cioè Raga Lui per me È il top Tutto bene Tutto bene RAS The King Direi B Curo Lilli Curo Lilli B Worldcat Non lo conosco Non ho mai visto nulla Gera Non saprei Polvin Buonasera The Mod Sì Tutto bene Tutto bene Wizard Jones Lunaris In gamba Termo Non saprei Se è subito Su A A giocare Brava Giocare Davvero In gamba Calabrese Non ho visto Nassonize Psykaib In gamba Metterai Su A Davidaus Non ho mai visto Niente Qualche secondo Così Ma non è che Il trono del muo Il trono del muo Switch Mai visto Karin Bu Zampra Non lo so Neanche Ciao mia Non lo so Turi Wolf Il lupo Non saprei Joseph Lo conosco B Il bertra Eh non c'è il rass No Ma perché purtroppo A noi affiliati Non ci cagano Cagano solo Solo Escrivamente I partner Questo qua Sinceramente Il bertra Starsky QQ Il duca Non saprei Il termos B Orion Mi sta un po' Non è proprio simpaticissimo Quella volta che mi cancello Il commento su youtube Non è proprio simpatico Che ho scritto No Per parte Orion WebDone Ma il video Che avete fatto Cioè Ero fanno doppiaggi Ma avete chiesto L'autorizzazione Per fare Il doppiaggio Cioè Perché ero Un doppiaggio Tipo Ho fatto Tutto L'opzione Uno Ma Cancellato Il documento Non è che Mi fa impazzire Tourna Non saprei Michelle Alla ragazza Di Di coso Di dov'è No Ah di Dread No Conosco J-Rond Non saprei J-Taz Non lo so Tex Ma Ciccio Gamer Che cazzo Non ha messo a fare Su Twitch Che non c'ha più Su Twitch Ciccio Gamer Scusa Gu Di Chakra Non saprei Freno Viva la fazza Neanche Temerlo Su Twitch Ciccio E non Hai visto Non so Lai Ciccia Nello Taver I Pusers Mike Shosha Dexter Ne Conosco Si può salvare Sta cosa Non credo Nello